Ehi sono Pa... Ehi sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video E oggi sembro una di quelle caramelle che ti dà la nonna ogni Natale Quelle a latte e a caramello lì Ma non pensiamo alle caramelle Pensiamo a quello che è successo Penso di aver rotto Fortnite Tranquillamente per fatti miei stavo aggiustando i preferiti nell'armadietto Quando improvvisamente succede questo Giochicchiando con l'armadietto Ho imparato il metodo per creare queste skin molto strane E allora ho detto Registriamo un video Quindi se volete questa sarà una nuovissima serie Ma prima dell'intro come al solito io vi ricordo di supportare questo creatore Perché il vostro supporto è veramente molto importante Quindi ricordate di utilizzare questo codice Se volete dei video sempre più strambi e più pazzi e più caramellosi Beh che dire Intro e iniziamo Ok Vediamo un po' qui cosa succede con catalizzatore, rocks e links Vediamo un po' Faccio casuale Poi vi spiegherò in qualche modo come si... Oh mamma Ho rotto tutto Ho rotto tutto Giustamente Vai proviamo altri va È giusto che si cos... Cosa ho fatto? Ho creato un abominio Che tratta è anche carina Allora Sorana, rimedio, catalizzatore Posso far così Poi vi spiegherò come io riesco a fare questo piccolo glitch Oh mamma Oh mamma La signorina Arc è un po' arrabbiata in questo momento Magari si potesse anche giocare con queste skin così Sarebbe stranissimo Ti segnalano a vista d'occhio subito Però sarebbe fichissimo E anche Sorana è diventata una tossina Sembra un po' strano la frase che ho detto Ok, calamity Vediamo un po' Come cambia Ok, ho creato Arc dentro calamity Bella Anzi, anche bella Se non esce il mento Però che bella C'è anche l'aureola Adesso ci ho fatto caso Bella Dai, carina Omega Omega Ultima Vediamo un po' cosa si crea Sotto questo Questo abominio Spero qualcosa di fighissimo Allora Casuale Si blocca come al solito Perché mi ha cambiato anche il metto? Vabbè, fighissimo Ed eccovi il cavaliere ultima Omega In tutto il suo splendore senza collo Tra l'altro Signor Signor Omega ultima Le manca il collo Allora, voglio fare il supercarboro Carbi più carboro Vediamo un po' Peccato che non c'è l'altro al metto Però c'è quello base base Però vola anche Senza collo Anche lui Ma vola È bellissimo così Fatemi lo usare così senza collo Operazione segreta più scolle Vediamo un po' qui Cosa esce Oh 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 La signorina operazione Scolli Che giorni più cuno Vai, vai Ti prego Fa che esce cuno con i capelli rosa Fa che esce cuno con i capelli rosa Beh Beh Bella Ma mi aspettavo che i capelli di cuno Ok C'è una mega fusione di capelli Però Devo creare la mia supercalzamaglia Allora Togli il costume e rimettilo Poi Togli quello che è uscito Casuale Non me l'aspettavo questa È bellissima Frittella magra Cioè senza tutto quel Bellissima Sembra una skin ufficiale Quasi Però Voglio giocare con questa skin La mia mini skin diventa così La coniglietta blu No dai Fortnite Fai così la skin Ma che bella Contate tutti i pantofoli di Trog Altra fusione in arrivo Casuale Ah è cambiato soltanto il riflesso Attorno alla testa Ok Niente di che però Si poteva fare di meglio Adesso voglio il re dei ghiacci carburo Il carburo supremo Vai Non è cambiato nulla Rifai così Casuale Ma sta con tanto di posa Ma che bello Però ci sta Si intona bene con i colori Con la posa E non ha bisogno del collo È perfetto Cioè sembra una skin Fatta apposta Ora andiamo di Che cosa ho creato Che cosa ho creato Ho creato una Tecnica rocks Tecni Tecni rocks Terocks Rocknecni Rocksnecnica Rocksnecnica Ma sembra È bella C'è anche il tatuaggio sul collo Tra l'altro Wow 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 Un po' la faccia di Damidez È un po' troppo fiera Però Che bella che Allora Un mix di tutto sto facendo Adesso esce fuori un frullato Vai Cosa ho fatto Cosa ho fatto Il rocks E la nuova Fosca fiaba Eh già È che mi ha dato anche posa Beh 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 Non mi fa tanto impazzire Però Arc Qui voglio La skin Suprema Delle supreme Di un supremo Supremo Qualcosa Ti prego Fa che ci sia qualcosa Quanto blocco No vabbè No vabbè Rocks è bellissima così Rocks arc Bellissimo Anzi bellissima Ma io me la comprerei Una skin così Adoro 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 Tantissimo Peccato che Non la si può utilizzare Nel gioco Peccato Adesso vi spiego Come fare questo switch Questo cambio di skin Una vostra fusione Di una skin È più facile mostrarlo Che spiegarlo Ad esempio Prendo un drift E poi Prendo un Carboro E li metto Come preferiti Una volta fatto questo Vado a selezionare Per esempio Carboro Attenzione C'è bisogno Per forza Dico per forza Una skin Che può cambiare stile Che così c'è più possibilità Di fusionare Entrambe le skin E secondo step C'è bisogno Di un armadietto Abbastanza vasto Una volta selezionato Il nostro Carboro Selezioniamo La skin default Poi Casuale Come potete vedere Esce drift Quindi la seconda skin preferita Una volta fatto questo Noi Eliminiamo La skin preferita E non selezioniamo Carboro Ma selezioniamo Di nuovo Casuale E improvvisamente Voila C'è stata La creazione Di Frankenstein O di Pazzochstein E abbiamo creato Un nostro drift Bello Pelato Con il corpo Di Non riesco a vederlo Così drift Però Però che fa Lo scenario Gommone Adesso lo faccio Rivedere Con calma Tranquillamente Prendo un cavaliere ultima E di nuovo Ad esempio Carboro Seleziono Carboro Poi Vado Tranquillamente A selezionare La default Casuale Esce Cavaliere ultima Faccio così Tolgo il cavaliere ultima Casuale Di nuovo E Voila Ma cosa Ma dai Non ho selezionato Neanche quel colore Ma perché Però dai Un po' come Omega Ha funzionato Che dire pazzoidi Io vi lascio Con questo Abominio Qui E fatemi sapere Qua sotto Nei commenti Se volete Un secondo episodio Con delle skin Che voi Volete vedere Scrivete qua sotto Nei commenti Quale fusione Volete vedere All'interno Del secondo episodio Va bene Qualsiasi skin Perché il mio armadietto E' bello Bello Grande Come state vedendo L'unica skin Che mi L'unica skin Che mi manca E' la Renegade Però Tutte le altre Ce le ho Quindi fatemi sapere Qua sotto Nei commenti Ricordate di supportare Questo creatore E noi Come al solito Ci vediamo Con dolcissimo E carnissimo He he Ciao Ciao Ciao